Un giro di affari di circa 200 vittime al mese, quello della truffa scoperta dalla squadra mobile della Questura dell'Aquila. In un appartamento di vasto, gli uomini di Tommaso Niglio hanno sventato un'organizzazione ben congegnata che proponeva abbonamenti a riviste esistenti, ma spacciate per prodotti editoriali della Polizia di Stato. 90 euro a vittima da raccogliere su scala nazionale per un giro di decine di migliaia di euro mensili che ha preso di mira gli istituti religiosi e le scuole. Il genitore di un alunno di questo istituto religioso che era stato individuato in provincia di L'Aquila con un'altra vittima è un appartenente alla Polizia di Stato e quindi ha subito contattato noi della squadra mobile e abbiamo avviato queste indagini. Sicuramente il contorno è un contorno che esula dall'Abruzzo, va oltre la provincia di L'Aquila e oltre l'Abruzzo perché abbiamo trovato lì già sette pacchi pronti per essere inviati dalla Calabria fino al Piemonte quindi passando per l'Umbria, passando per il Lazio, quindi abbiamo una truffa che ha dei contorni sicuramente ingenti. I venditori dell'abbonamento alla rivista si spacciavano per funzionari di polizia inesistenti e così che gli agenti della mobile aquilana hanno scoperto e sequestrato a vasto un appartamento all'interno del quale si svolgeva lo smistamento delle riviste da spedire in abbonamento abbinato ad una sorta di call center che vendeva le riviste stesse. Il tutto all'insaputa degli editori e dei proprietari delle riviste, tutte associazioni illegali che producono riviste sui temi della sicurezza. Un giro d'affari e di truffa che potrebbe allargarsi esponenzialmente. Nell'appartamento di Vasto sono state sequestrate 273 riviste, 300 cd, 7 pacchi pronti per la spedizione in varie città d'Italia e 6 telefoni cellulari usati come call center della truffa. In seguito al blitz, sul registro degli indagati, sono finiti per truffa e sostituzione di persona in due. Ma l'indagine è ancora in corso e la premura della Polizia di Stato è quella di lanciare l'allarme truffa poiché nessun esponente, si dice, della Polizia chiede denaro a nessun titolo. Nessun funzionario di Polizia, nessun appartenente alla Polizia di Stato telefonerà mai a chiunque oppure chiederà denaro sotto forma anche di donazione e in cambio per dare una rivista. L'abbonamento alla rivista della Polizia di Stato, che è Polizia Moderna, avviene attraverso i canali ufficiali consultando il sito della Polizia che è www.poliziadistato.it, quindi diffidare assolutamente di chiunque chiede del denaro via telefono.